Forte, ero già stato allo Snowquake, stesso team, moto diversa col pelo, adesso quelli l'abbiamo depilata per l'evento, è molto carino, è interessante, la cosa bella che mi piace di queste cose è che non è competitivo, io dopo 16 anni di gare adoro questa sensazione. Vorremmo ingrandire la squadra con un mezzo un po' particolare, abbiamo questo ragazzino, una giovane promessa baldaostana, due moto sicuramente, grande ambizione insomma, puntiamo in alto.